Ciao a tutti ragazzi, in questo video torno a parlare ancora una volta di NFT, strumenti di investimento, speculazione oppure semplicemente una moda passeggera? Beh, cerchiamo di capirlo in questo video, voglio mostrarvi come effettivamente acquistare NFT attraverso la piattaforma Crypto.com e voglio parlarvi anche di cosa penso dell'evoluzione nel tempo di questi mercati. Cosa sono gli NFT? Sono non fungible tokens, ovvero delle stringhe di codice se vogliamo, sono dei token che sono legati univocamente a un'opera d'arte, a un oggetto digitale come può essere un JPEG, un PNG e una volta che sono legati a questo strumento sono univoci e permettono di determinare una volta per tutte l'originalità, il possesso di quello strumento al quale è stato legato l'NFT. Gli NFT ultimamente sono cresciuti tantissimo a livello di volume, a livello di esposizione e anche mediatica se vogliamo, questo video è anche frutto di questo sviluppo degli NFT e in particolare questi vengono utilizzati come strumenti di trading da molte persone che cercano, come per un qualsiasi oggetto da collezione, di comprare ad un prezzo basso e rivendere quell'NFT in futuro ad un prezzo più alto. In passato vi ho mostrato anche che sono stati venduti degli NFT a cifre folli, cifre veramente allucinanti e ricordiamo che stiamo parlando sempre di JPEG, una semplice immagine, che però evidentemente ha molto valore, almeno per alcune persone. Come comprare questi NFT? Crypto.com mette a disposizione una piattaforma dedicata chiamata appunto NFT, la sezione NFT di Crypto.com E adesso ve ne voglio parlare in dettaglio, perché ha delle funzioni molto interessanti, ma ci sono alcune cose alle quali fare attenzione. Eccoci nella piattaforma di Crypto.com dedicata agli NFT. Come potete vedere ci sono dei lions, dei leoni, ovvero l'ultimo drop di cui vi parlo tra poco di Crypto.com. In questa schermata, in Marketplace, possiamo essenzialmente acquistare gli NFT messi in vendita da altri investitori, oppure dai produttori diretti di NFT. Come potete vedere ce ne sono di diversi e in realtà si può scegliere la categoria. Si può selezionare arte, ad esempio. Quindi ci sono le opere artistiche. Celebità, come vedete calciatori molto famosi, gaming, ci sono delle carte da gioco che è un drop precedente di Crypto.com, sport, musica e anche relative alle criptovalute. Selezionando un singolo NFT possiamo vedere i dettagli relativi a questo NFT, ovvero a quanti è piaciuto, a quanti lo hanno visto, il creatore, in questo caso Crypto.com, il nome, l'elfo, in realtà è un leone, e l'offerta iniziale, come vedete questa è un'asta, ovvero il proprietario Falcon ha messo in vendita questo NFT che in realtà è appena uscito pochi minuti fa ed è già stato messo in vendita all'asta. Perciò quest'asta durerà 6 ore e 14 ore ancora, l'offerta iniziale è 19 dollari e qui sotto c'è l'edizione. Selezionando l'edizione, come vedete c'è in vendita l'edizione 9 a partire da un prezzo di 1000 dollari, l'edizione 17 a partire da 155 dollari e così via. Queste sono le edizioni messe in vendita, in questo senso le edizioni dall'1 alla 8 non sono al momento messe in vendita da chi le ha acquistate. Qui sotto invece possiamo vedere il proprietario Falcon, lo storico dei movimenti, comprato da Falcon per 20 dollari in realtà 31 minuti fa, in momento del drop, e le offerte. Non c'è uno storico. Con questo tasto possiamo fare un'offerta e perciò se io volessi mettere 19 dollari possiamo utilizzare il nostro saldo di Crypto.com NFT oppure pagare con le Crypto.com Coins oppure con altre criptovalute. In questo momento però non ho intenzione di fare offerte per questo NFT, perciò lascio perdere. Per registrarsi su NFT in realtà è tutto piuttosto semplice. Basta selezionare registrati e poi una cosa che in realtà non è ottimizzata è il fatto che serva registrarsi nuovamente, quindi utilizzare, se volete sempre la stessa mail, ma una nuova password per accedere al portale NFT di Crypto.com rispetto all'exchange e rispetto all'applicazione. Però si può collegare il proprio profilo all'app in semplici passi. Come vedete qui ho modificato un po' il mio profilo, Leo, LeoPin, posso modificare, c'è il mio indirizzo Cro, una breve descrizione e qua si vedono le informazioni relative al mio profilo, che in realtà non ho ancora utilizzato per acquistare NFT. Se invece andiamo a vedere ad esempio il profilo di Falcon, possiede molti collezionabili di NFT in vendita, ha messo diversi collezionabili, non ne ha creati neanche uno e gliene sono piaciuti un paio. Diciamo che questo è un profilo molto più completo del mio. Per quanto riguarda i drop, ve ne ho parlato poco fa, questo è Divine Intervention di SXBRE. È uscito il 3 settembre alle 3 di pomeriggio, in realtà ora sono le 3.47, è stato completamente terminato. Ieri, osservavo il drop della giornata di ieri e ci hanno messo veramente 10 minuti a comprare tutte le edizioni. Qua, ad esempio, questo drop di Crypto.com è ancora valido e quindi, come vedete, collection number one, ci sono 3.074 persone davanti a me. Devo attendere ancora più di un'ora e non so in questo momento se effettivamente ci saranno disponibilità di NFT una volta che sarò entrato nella pagina del drop. Qui sotto vediamo gli NFT che sono al momento disponibili all'acquisto direttamente dai produttori. Questi, come vedete, l'8 settembre, il 9 settembre, il 10 settembre, usciranno nuove edizioni di NFT, quindi il lancio di NFT e quelli terminati. Questo è quello di ieri, ieri l'altro e così via. Ne escono praticamente quasi uno al giorno. Selezionando Brands e selezionando DressX, come vedete, ci sono dei collezionabili relativi a questi brand. E in questo senso stiamo acquistando delle magliette, ma non delle magliette vere, semplicemente delle magliette digitali. Mentre parlo vi mostro questo video in cui stiamo acquistando per 525 dollari questo piccolo video. E come vedete questo NFT è una foto di Falcon Heavy, ovvero questo shuttle. In realtà ci sono un sacco di contenuti da vedere, da studiare, da analizzare all'interno di questo marketplace NFT di Crypto.com. Ad esempio, selezionando una caso, come vi ho mostrato prima, si possono vedere tante informazioni. Ci si può fare un'idea di qual è il costo medio di un NFT su questa piattaforma e di come funzionano le aste, come funzionano le compravendite di questi NFT. Una volta acquistato, infatti, possiamo mettere in vendita il nostro NFT e, se qualcuno è interessato, può acquistarlo ad un prezzo che, si spera, sarà superiore. Voglio adesso concludere il video lasciandovi alcune mie impressioni personali. Il mercato degli NFT è in fortissima crescita e questo significa, come per ogni mercato in espansione forte, delle grandi opportunità, perché ci troviamo sostanzialmente in una fase iniziale del mercato per guadagnare molto. Quindi investire adesso in NFT potrebbe, in teoria, provocare in futuro una grande plusvalenza. Questo però potrebbe non accadere. Investire in alcuni NFT, ora potrebbe rivelarsi un grosso sbaglio dal punto di vista finanziario. Perché, di fatto, ci troviamo in una bolla speculativa, almeno in questo momento. Il discorso è differente per chi, invece, crea degli NFT, ai quali può legare anche un guadagno per ogni transazione futura, una percentuale rispetto al prezzo di vendita. E, in questo caso, un'ottima opportunità per generare un'entrata passiva. Soprattutto se l'NFT creato avrà un grande valore. Bisogna fare molta attenzione, però, anche nella creazione, ad esempio, di NFT, perché, nel momento in cui tutti possono creare un NFT, gran parte dell'arte creata, in realtà, non è altro che una cosa sostanzialmente bruttissima e inutile e senza valore. Invece, una volta che abbiamo acquistato un NFT creato da qualcun altro, un modo per guadagnare è quello di comprare basso e rivendere alto. Ma anche in questo caso entrano in gioco le dinamiche del mercato dei collezionabili reali. Pensiamo alle carte dei Pokémon, non sto scherzando. Pensiamo ai quadri di grandi artisti famosi. Per un certo periodo storico, quell'artista potrebbe essere considerato il nuovo dio e, in quel senso, le sue opere essere valutate tantissimo. Ma poi, successivamente, potrebbe essere rivalutato in negativo quell'artista e quindi le opere potrebbero perdere di valore. Insomma, le dinamiche degli NFT sono parzialmente simili alle dinamiche del mercato dei collezionabili reali. Fatemi sapere cosa ne pensate degli NFT in generale e se avete utilizzato la piattaforma di NFT di Crypto.com con un commento sotto a questo video. Per il resto il video finisce qui. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile lasciate un bel like per supportare il canale e se siete nuovi iscrivetevi e attivate la campana di notifica per non perdervi i miei prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per aver guardato.